Che cosa significa conservare il cuore nonostante il peccato, nonostante il fallimento, nonostante il male scelto in maniera deliberata? Anche in questo, Davide è il figlio che ci insegna l'immensa lezione del cuore. Infatti, se è già pericoloso e anche difficile preservare il cuore dalla vita, da quello che accade nella vita, da quello che subiamo dagli altri o dalle circostanze, sembra quasi impossibile invece tenere il cuore al riparo dalle nostre stesse azioni malvagie, da tutto quello che compiamo deliberatamente attraverso la nostra libertà. L'esperienza del peccato può infatti soffocare il cuore, ma Davide ci dimostra come sotto il fuoco spento di un cuore che ha sbagliato può rimanere accesa alla braccia di un cambiamento, di una conversione, di una rivoluzione, di un nuovo inizio. Se Davide è il figlio che sa perdonare Saul, che sa perdonare il padre, Davide è anche colui che si lascia raggiungere dal perdono, colui che fa dell'esperienza del perdono un'esperienza vera di cambiamento. Anche qui ci viene in aiuto un racconto biblico che ci fa incontrare un Davide che non è più un bambino, ma è già adulto, è re. Un Davide che è passato attraverso le peripezie della costruzione di un regno, di una città, di un dominio, che lo ha visto in diverse battaglie in prima persona. Alcune volte però nella vita c'è la tentazione di pensare che non bisogna più vivere in prima persona, che bisogna delegare la propria stessa vita. Per noi inizia così il tempo della noia, il tempo di non fare più nulla, il tempo in cui far combattere le nostre battaglie ad altri, mentre ce ne stiamo al riparo a meditare trasgressioni per poter sentire ancora qualcosa di vivo. Davide è un uomo irriconoscibile e i segni della sua mostruosità si vedono chiaramente nella storia che riguarda Uria Littita e sua moglie. Davide è un re che ha un immenso arema a disposizione e donne in sovrabbondanza, eppure va a prendere la moglie di un suo soldato, di un suo amico, perché nella noia solo la trasgressione può farci percepire di nuovo il piacere. E inoltre non gli basta semplicemente trasgredire, trasforma la sua furbizia in malizia, la sua intelligenza in un modo per fare del male al prossimo. Non riuscendo infatti con l'inganno a mandare Uria a dormire a casa propria, così da convincerlo che il bambino che la moglie aspetta in realtà è suo, è scogita un'operazione per farlo morire durante la battaglia. Il suo progetto riesce e Uria muore. A dispetto di questa tragedia, invece di pentirsi, Davide manda a chiamare la moglie di Uria e la prende come sua, ma, dice la parola di Dio, ciò che Davide aveva fatto era male agli occhi del Signore. Infatti potremmo dire con molta certezza che non c'è cuore in questa storia appena raccontata. Davide è diventato spietato, malvagio, non agisce più passando attraverso la propria umanità. C'è una sorta di scollamento che si è venuto a creare tra la sua intelligenza, la sua furbizia, la sua posizione, il suo potere e le ragioni del cuore. Il cuore e la testa di Davide non sono più due vasi comunicanti, ma che il cuore gli funzioni ne siamo pressoché certi. Infatti il proseguo della storia rivelerà la capacità di Davide di sapere ancora guardare con giustizia, con umanità, a quello che accade intorno a sé. Dio vuole guarire Davide da questa schizofrenia, dalla divisione che lo abita, dall'incomunicabilità tra le ragioni del cuore e le ragioni dell'intelligenza, del potere, della furbizia, della scaltrezza. Non dobbiamo dimenticare infatti che a volte la nostra vita è più chiara quando la vediamo nella vita degli altri e la trave che abbiamo nell'occhio diventa visibile soltanto dopo che ci siamo accorti della pagliuzza che in quello altrui. Questa è l'esperienza che Davide deve fare per riconciliarsi con il suo cuore. È Nathan ad aiutarlo in questo e attraverso Nathan è Dio stesso ad operare la guarigione dolorosa nella sua interiorità. La storia che il profeta Nathan racconta a Davide altro non è che una parabola, ossia in maniera simbolica quello che lui ha fatto al suo amico Uria Littita. Eppure, nell'ascoltare la storia di un altro, Davide conserva la capacità di giudizio, di saper mettere cuore nel guardare con verità le cose. Non difende il sopruso, non è ingiusto nel guardare la verità che gli si pone innanzi. L'ira di Davide si scatenò contro quell'uomo, dice il racconto biblico. In qualche modo Davide si arrabbia contro se stesso, pensa che la sua rabbia è rivolta ad un altro, che lui non c'entra assolutamente nulla. Formula così una sentenza durissima, una sentenza di morte e un pagamento quadruplo del danno. Ed è qui, con un punto di sutura dolorosissimo, che Nathan dice a Davide, tu sei quell'uomo. In un istante Davide comprende che cosa ha fatto, chi è diventato, quello che ha compiuto agli occhi del Signore. Comprende che non è giusto pretendere che gli altri siano umani, quando noi non siamo disposti ad esserlo in prima persona. È così seria la faccenda, che il profeta Nathan non si limita semplicemente ad aprire gli occhi a Davide, ma gli annuncia anche che la sua sarà una brutta fine. Anche in questa circostanza così tremenda, dove ancora una volta ci sembra che il destino sia segnato, così come ci sembra segnato il destino di Davide bambino, non visto, non riconosciuto, invisibile agli occhi del proprio padre, Davide è capace di stupirci, cioè di mostrarci un finale diverso. Di svelarci come si può essere figli giusti, nonostante a volte l'ingiustizia, ricevuta o scelta, sembri prendere completamente il sopravvento. Davide è sempre imprevedibilmente umano, anche quando è lui a sbagliare in prima persona, anche quando tutto sembra perduto e profetizzato come una fine. Allora Davide disse a Nathan, ho peccato contro il Signore. Nathan rispose a Davide, il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morirai. Sembra di una velocità estrema, quasi incomprensibile quello che accade in questo versetto. Eppure tutto lo si riesce a capire quando si sia compreso che Davide, invece di accampare scuse, ammette completamente la sua colpa. Si semplifica molto la realtà quando si ha il coraggio di ammettere di aver sbagliato. Il perdono, che è sempre un nuovo inizio, accade nella vita di una persona, solo quando quella persona ha il coraggio di affermare a chiare lettere e con autenticità straordinaria il proprio errore, la propria colpa, il proprio fallimento. Non ci si lava dall'ingiustizia trovando scuse per la nostra ingiustizia, ma avendo l'umanità di saper ammettere la verità delle cose. Ora, poiché l'azione che Davide ha compiuto è irreversibile, essa non rimarrà impunita, ma ci sarà una giustizia di Dio che comunque si abbatterà su di lui. Questa giustizia però tiene conto anche del perdono. È una giustizia che non intralcia il nuovo inizio, il finale diverso, che vede Davide protagonista. Così Davide ci dimostra che avere cuore non significa semplicemente perdonare i padri, perdonare Saul, perdonare Iesse, perdonare gli adulti. Davide ci insegna che avere cuore significa anche lasciarsi perdonare, cioè lasciare che il perdono riguardi anche noi stessi, che non sia semplicemente il perdono degli altri, ma diventi anche un perdono che raggiunge personalmente ciascuno di noi.